Il progetto DIVA è un progetto europeo, finanziato quindi dalla Commissione Europea ed in particolar modo è cosiddetto anche un progetto Cascade in quanto i fondi che vengono erogati ai partner del progetto vengono impiegati fondamentalmente per aprire delle call che sono aperte alle piccole e medie imprese interessate che lavorano nel mondo dell'ICT e quindi del mondo digitale per sviluppare progetti innovativi legati al settore agroalimentare al settore ambientale e al settore forestale Nell'ambito del progetto DIVA di cui CRPV e H-Farm sono i partner italiani è stata definita anche una rete di demo farm ossia di aziende sperimentali all'interno delle quali è possibile per le piccole e medie imprese che appunto hanno avuto accesso ai voucher finanziati dal progetto stesso di poter sviluppare e mettere in dimostrazione le loro attività i loro nuovi processi tecnologici al fine di poterli visibilmente rendere dimostrativi anche al grande pubblico e quindi ai settori che poi ne dovrebbero beneficiare Quindi nell'ambito del progetto DIVA abbiamo pensato di organizzare questa giornata questo demo day all'interno appunto di una demo farm e nella fattispecie presso Astra proprio per creare un momento più diretto di contatto e di collegamento fra quelle che sono le imprese tecnologiche quindi diciamo impegnate nel digitale e nell'ICT per appunto avvicinarle al mondo agricolo ed in particolar modo a tutto il settore dell'agroalimentare che riguarda tra l'altro proprio tutti i soci del CRPV Astra Innovazione e Sviluppo è una società controllata da CRPV che svolge attività di sperimentazione, collaudo, monitoraggio, divulgazione nel settore agricolo ed agroindustriale Nelle tre sedi di Cesena dove siamo adesso, Tebano e Dimola noi disponiamo di campi dimostrativi, di frutteti dimostrativi, di vigneti di serre, di tunnel, di screen house nonché di laboratori dove effettuiamo le nostre attività per conto dei soci del CRPV piuttosto che dei privati che ci chiedono servizi di carattere innovativo e sperimentale Oggi abbiamo organizzato insieme a CRPV e al cluster questo Demo Day in cui abbiamo fatto incontrare coloro che richiedono nuove tecnologie in agricoltura e quindi aziende agricole piuttosto che OP, piuttosto che cooperative agricole con chi offrono servizi in agricoltura tecnologici Abbiamo quindi 16-17 ditte, erano all'inizio, con prodotti innovativi che vanno dalle sonde che esplorano l'umidità del terreno in maniera innovativa, piuttosto che guida digitale per trattori piuttosto che metodi di regolare la luminosità all'interno delle serre La finalità di questo evento è comunque quindi facilitare questo flusso di informazioni che vada da chi produce la tecnologia a chi la usufruisce Consideriamo questo evento che abbia avuto un buon risultato quest'anno e contiamo ripeterlo nel prossimo anno Sono Lorenzo Sforzini di Onit Onit è un'azienda di Cesena che si occupa tra l'altro anche di software per l'agricoltura Oggi siamo venuti a questo evento per presentare un progetto che stiamo portando avanti con l'università che si chiama AgroBid Data Science è un progetto per raccogliere dati di campo applicarci sopra l'intelligenza artificiale per fare previsioni per migliorare il rendimento delle culture Maftec è una spin-off del Politecnico di Torino nata nel 2005 con sede operativa a Bolzano presso il Noitec Park si occupa dello sviluppo di piattaforme aeree, droni per l'utilizzo in ambito agricolo per l'agricoltura di precisione prettamente con rilievi multispettrali Oggi siamo qui per presentare un progetto di ricerca in collaborazione con Gruppo FOSS nel quale si è voluto cercare l'integrazione tra rilievo aereo con il drone e il rilievo a terra tramite delle fototrappole per insetti e questi dati vengono, come dicevo, integrati per essere utilizzati e essere forniti a un tecnico che in campo può valutare poi dove intervenire in che quantità rispetto ai risultati che noi riusciamo a ottenere dai dati rilevati tramite un sensore multispettrale e i dati che ci vengono forniti dalle fototrappole per gli insetti Oggi abbiamo mostrato innanzitutto i nostri sistemi di guida che oltre al fatto di portare il sistema di guida sul trattore ci permette anche di controllare l'attrezzo quindi sistemi di chiusura a sezioni sistemi di possibilità di mappe variabili tutto questo permette quindi anche di collegare macchine Isobus e inoltre abbiamo la sensoristica la sensoristica come potete vedere questo nuovo sensore che proponiamo è un sensore per l'applicazione del diserbo localizzato quindi ogni sensore è applicato su un ugello e apre l'ugello solamente quando vede l'infestante tutti questi sistemi sono sistemi che hanno una peculiarità sono fatti in Android questo è un sistema Isobus quindi può essere collegato in qualsiasi sistema e come dicevo prima abbiamo anche grossa connettività quindi connettività ci permette di scambiare dati dall'ufficio al campo e dal campo all'ufficio come potete vedere qua anche nelle mappe si possono quindi avere delle riportistiche direttamente sul cloud e su un'applicazione questo ci dà poi la strada, l'agricoltura 4.0 che oggigiorno è piuttosto diffusa in Italia Cette Electronics è una piccola media azienda del Trevigiano che si occupa di sviluppo hardware di elettronica e sviluppo software per l'agricoltura facciamo sistemi di monitoraggio di precisione come sensoristica con dei particolari dispositivi che ci danno delle misure innovative in campo oggi presentiamo Vcam che è un dispositivo per il monitoraggio dell'accrescimento vegetativo delle piante una telecamera in grado di ricostruire anche il volume tridimensionale della chioma e presentiamo anche VTRAP che è una trappola ferormoni con un sistema di telecamera integrata per scattare foto ad alta risoluzione da cui riconoscere a distanza gli insetti quindi per fare un monitoraggio da remoto delle trappole un software di riconoscimento automatico permette di dare direttamente all'utente finale la conta degli insetti almeno quelli più dannosi diciamo per determinate culture il CNR IMM di Parma è l'istituto dei materiali per l'elettronica e il magnetismo e all'interno del nostro gruppo di ricerca ci occupiamo di sensoristica applicata all'agricoltura e allo smart farming in particolare abbiamo sviluppato un sensore elettrochimico un organic electrochemical transistor in grado di monitorare i cambiamenti biochimici che avvengono all'interno della pianta BioRistor è il primo sensore al mondo a essere inserito all'interno della pianta e a monitorare ciò che avviene in vivo, in continuo e in tempo reale